ciao a tutte allora oggi ho deciso di fare questo tutorial vedete sui toni verde turchese e viola ho utilizzato questo ombretto della chicco vedete che è il numero 107 e questo che è il numero 105 rosa varoncina ho utilizzato solo il rosa però ovviamente e diciamo per rendere il verde un po più forte ho usato questo verde turchese questa palettina piccola ok allora inizio col prendere questo ok quello che serve appunto per mettere l'ombretto sulla palpebra mobile e vado a prendere il verde turchese e lo applico lo applico ma io oggi non so più parlare veramente lo applico comunque sulla palpebra mobile e dice nello specchio poi prendiamo questo verde quello dell'ombretto dell'ombretto chicco e lo andiamo ad applicare però con un pennello così più grande poi prendo il pennello per sfumare e prenderò questo rosa che c'è in questa palette e lo vado ad applicare sulla sulla piega dell'occhio poi prenderò questo rosa io ovviamente non so più cosa fare per la luce questo è il numero 76 sempre col pennello quello per sfumare e lo vado ad applicare diciamo dall'inizio della palpebra fino a metà sulla piega proprio prendo il viola e lo metto nell'altra metà e lo sfumo metto il bianco e per comodità userò gioco qui la palette questo bianco e cercherò di andare a sfumarlo bene con il viola e il rosa poi prendo il bianco e lo sfumo con il pennello quello per eyeliner prendo un po' di questo rosa qui e lo andate a mettere proprio qui sotto fate una bella linea poi prenderò l'eyeliner poi dopo aver messo l'eyeliner mettiamo la matita nera all'interno dell'occhio così il mascara solo cilè superiore poi prendo come lipgloss uso pink fish della mac ed è un'idratante quindi idratare le labbra fa più morbide più belle no non credo che lo trovate che è una collezione d'occhi qui vedete questo è il look di oggi e spero che vi siate divertiti a guardare questo video e niente noi ci vediamo la prossima volta vi mando un grossissimo bacio ciao ciao